Sono tante e troppe le vertenze di lavoratori a Gela che temono per il loro futuro occupazionale. Le poche certezze consolidate fino ad oggi si sgretolano giorno dopo giorno come un castello fatiscente dal quale vengono giù pezzi importanti con una frequenza non più preoccupante ma allarmante. Accade che quotidianamente la nostra redazione riceva chiamate da presidi di protesta su più fronti, gli ultimi in ordine di tempo e ci riferiamo alle sole giornate di ieri e oggi, la situazione incandescente degli ex lavoratori del reddito minimo di inserimento e i 27 lavoratori IRSAP. Facciamo il punto della situazione con il dirigente sindacale Ignazio Giudice. Sui 104 lavoratori del reddito minimo di inserimento è proprio di stamattina la buona notizia nel sito della regione siciliana sulla ripartizione del fondo che alimenta a sua volta i bilanci comunali per mandare in attività i propri servizi nei quali sono impegnati gli RMI, dall'assistenza domiciliare alla manutenzione ordinaria della segnalitica stradale agli edifici scolastici. Questa è una buona notizia perché il fondo è pari a 421 mila euro fino al 31 dicembre. Il comune per esempio di Gela come altri comuni in giro per la Sicilia sono salvi. Suggerere a me quindi basterebbe fare una delibera che sono convinto che oggi il comune di Gela e una persona del sindaco della sua giunta produrranno per rimettere in attività i 104 lavoratori e lavoratrici. Per quanto riguarda i 27 lavoratori è un problema ottafico che si trascina da 18 anni che è collegato sempre alla finanziaria regionale. Però l'IRSAP in questo caso con la nostra contrarietà mi pare ovvio ha bloccato il badge d'ingresso dei lavoratori. facendo venire in meno quel diritto al reddito proprio di questi giorni. A dei lavoratori che lo vorrei ricordare vivono con circa 500 euro al mese che spesso l'IMS per mille ragioni derivanti anche nel caso da una mancanza di organico per questa procedura eroga in ritardo. Noi siamo affinché in questo caso l'IRSAP assuma la responsabilità di far condividere ai lavoratori un percorso definitivo di uscita. Per creare nuova occupazione dobbiamo eliminare il precariato presente. A Gela ancora abbiamo sacche di precariato che vanno dall'impegato alla Camera di Commercio agli RMI ai lavoratori consorzionali di bonifica. Se noi eliminiamo questi 200 precari dando loro una prospettiva certa, quindi un contratto di stabilizzazione, noi possiamo pensare anche a un futuro errosio per i disoccupati che sono tanti e sono anche ben istruiti.